Questo che sta inquadrando è il figlio da Campiglia. Poi ci spostiamo in mezzo al mare, questo è Piombino, l'area industriale di Piombino. E questo è Montecristo, Montecristo ragazzi, sembra un passo. Madonna, non riesco neanche a tenerla ferma. E questa è l'elba, l'elba col Monte Capanne sullo sfondo. Questo qua sotto è il Golfo di Baratti. Ciao. 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 Ciao.